La politica falsa porta a false ideologie, ma questa politica di adesso è buona per il cittadino, perché lo aiuta, perché lo gratifica. Dopo anni di vuoto, finalmente uno spiraglio per chi non ha niente e sta soffrendo, per chi ha poco sulla pensione e non ce la fa a vivere. Questa è una politica giusta. Questa è una politica giusta. Non facciamoci prendere in giro da chi dice che questa è una politica giusta. Questa è una politica giusta, perché va incontro a chi ha poco. Perché va incontro a chi ha poco.